Forse siamo mancati nella fase realizzativa, molto probabilmente se Gaetano o Masucci fa gol la partita cambia o magari va nella stessa maniera, però credo che quello che ci è mancato anche vedendo lo scorre di tiri in porta credo che sia stato quasi uguale, a differenza del gol loro che hanno fatto un gran gol, quindi è normale che poi due rigori, credo che la partita sia stata abbastanza equilibrata. Poi è normale, loro erano più aggressivi avendo giocato una partita in casa, la prima oltretutto della stagione, quindi ci tenevano sicuramente in maniera particolare, però diciamo che secondo me la partita è stata equilibrata, bisogna migliorare sicuramente. Beh, noi da parte nostra vogliamo sicuramente ricominciare a far punti perché sappiamo che è un campionato lungo e difficile e bisogna mettere più punti in casa possibili, in cassa possibili, quindi per noi una partita importante la dobbiamo affrontare con il giusto piglio contro una squadra forte. Loro hanno perso in casa quindi verranno qui arrabbiati, ma insomma noi siamo più arrabbiati di loro, quindi sarà dura. Ma grandi ricordi, grandi sensazioni, io ho avuto sei mesi, ho fatto sei mesi lì e fantastici dal punto di vista sportivo, dal punto di vista anche del rapporto con le persone. Quindi ho passato sei mesi, ripeto, bellissimi, però domani sono un giocatore del Frosinone Calcio e sono un professionista, quindi bisogna vestire la maglia che indossi fino in fondo e quindi lotterò per portare i tre punti a casa per il Frosinone Calcio. Grazie. Grazie a tutti.